Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per fare un semplice video in cui farò vedere tutte le mie bambole e ne presenterò due che non sono bambole reborn di fabbrica né reborn vere e proprie ma sono delle semplici bambole, molto carine però, che avevo io da piccola e che adesso sto curando un po' di più perché mi piacciono. Una è piccola come Matilde e l'altra è un po' più grande però è sempre un po' più piccola di Anna e Marco. Allora qui abbiamo una piccola Mati nella copertina su una sediolina e niente, indosa questo vestitino e adesso niente, riposerò un attimo mentre vi mostro le altre bambole e poi gli diamo il latte. Qui c'è il piccolo Marco nel suo seggiolone, questo seggiolone è della Chicco ed è, l'ho preso da Baby Boom, un negozio di usato per bambini che però vende cose molto belle e tenute molto bene a 5 euro e quindi diciamo che è stato un affare. E il piccolo Marco indosso il suo gavaglino della box opening con questo ciuccio e questa bellissima tutina nuova che mi è stata regalata. E niente, adesso vi presento le altre e poi gli daremo il latte. Qui c'è la piccola Anna che ha addosso, cioè sto usando questo ciuccio che è un gommotto però niente, l'ho magnetizzato quindi lo può usare e c'è il suo pulvazzetto e niente adesso poi gli daremo il latte. Questa è la piccola Chicca è minuscola però è molto carina e indosso questo vestitino delle principesse e guardate, mi sta in una mano per quanto è piccola ed è super giù piccola come la macchina vedete? Sono molto assoluta e niente, questa è Chicca non è una bambola rea barri è una semplice bambola e solo che è molto carina e a me piaceva la usavo molto da piccola e quindi niente adesso ve la volevo mostrare anche a lei gli daremo il latte oggi e daremo il latte anche il piccolo Pepe che è lui che è una mia bambola di quando ero piccola che però è molto carina come potete vedere ha delle labbra molto carine e niente è il corpo in stoffa però sembra come un bambino cioè nel senso la faccina non è molto realistica ma il corpo sì e ha le mani così una mano così e una mano così e niente anche a lui oggi daremo il latte indossa già il suo bavaglino e Pepe e Kika sono su questo sdraio che sotto ha il boppi fatto in casa da me il cuscino fatto in casa da me prima daremo il latte alla piccola Kika ecco qua la piccolina sta bevendo il suo latte ecco qua anche il piccolo Pepe sta bevendo il latte è molto carino alla piccola Kika non ho messo il bavaglino perché tanto lei non beve molto quindi è molto difficile che si sbrodola ecco qua anche la piccola Martina adesso sta bevendo il latte è molto carino ecco il bavaglino ecco qui anche il piccolo Marco adesso sta bevendo il suo latte io mi lascio questo bavaglino carinissimo sta giocando con il suo cuccetto ecco qui anche la piccola Anna che sta bevendo il suo latte allora ragazzi ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale per essere aggiornati su tutte le novità e scrivete un commento ditemi se vi è piaciuto o preferireste quale altro video sul mio canale e niente al prossimo ciao ciao